Ho sentito che la chiamano Michelin, perché? No, mi chiamo Michelin perché il Milan mi ha fornito questa tuta un po' ingombrante. Ah, non è per via della pancia? Non tocca un tasto debole, per favore. Era un uomo, Rocco, di quelli che mancano al calcio di oggi, di quelli che non ti fanno venire il mal di testa con gli schemi, perché il calcio è uno sport assai più semplice di quello che talvolta si vuol far credere. Parola di Gianni Rivera. Rocco viene considerato un buon fattore, un uomo rozzo, con l'animo buono, invece è tutto differente. L'aspetto è dell'ex atleta che ha smesso di correre e che ha onorato il Dio in tutte le sue creazioni, compresi i cibi buoni e soprattutto i vini, no? Soprannominato è il Paron, il padrone, Nereo Rocco è un burbero dal cuore tenero diventato immediatamente idolo dei tifosi rossoneri, per i modi spicci e per le sue massime in dialetto triestino, che hanno fatto epoca. Andiamo, 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 ti dormiamo tutti, perché ci abbiamo anche il servo, Drio, le spalle. Ma la terra coltira a destra, sinistra, interno, esterno, anche qualche allungo, ma la terra è come un funeral di terza classe. Con i giocatori sta ora un rapporto paterno, ricco di umanità, alternando ai sorrisi le maniere forti quando è il caso di strigliare i suoi cavalli di razza. Andiamo subito, guarda l'ognoni subito! È come idea, perché non la senta... Allenatore carismatico, sempre attento all'aspetto psicologico dei calciatori, Rocco intuisce subito che per veicolare le sue idee alla squadra necessita dell'appoggio di un gruppo di fedelissimi. I suoi veci, così chiama i giocatori più anziani, formano una commissione interna con la quale il Paron si consulta prima di stilare la formazione che va in campo la domenica. Rapporti umani e cultura dello spogliatoio, Rocco punta a valorizzare la forza del gruppo e trasmette ai suoi giocatori sicurezza, carica, tranquillità e determinazione. Mi te dico cosa far, ma in campo te vati! Tutto quel che si muovi sull'erba, deghe, se che se la balla, pazienza! Colpite tutto ciò che si muove sull'erba, se è la palla, pazienza! Un giorno, spiegando la tattica ad un noto cronista, disse Domenica giocheremo così, Cudicini in porta e tutti gli altri fuori. Cavalier Nerea Rocco, allenatore del Milan, con i nuovi acquisti del Milan, Benetti, Vignoli e Biasiolo. A questo proposito, Cavalier Rocco, mi permetta subito una domanda. Visto che nel Milan, almeno per quanto riguarda il linguaggio tecnico, il dialetto triestino è un pochino quello che va per la maggiore, lei quando compra i giocatori, li compra in quelle zone là, in modo tale che possano comprendere meglio quando sono le sue disposizioni? È un pochino vero, non proprio troppo vero. Io compro, per se è possibile, i buoni giocatori e questi tre, almeno speriamo di aver indovinato. O di tanto si fa qualche gaffa. Signor Rocco, mi scusi, qual è la giornata lavorativa di un calciatore durante la settimana che precede la partita? Durante la settimana che precede la partita, il calciatore è a disposizione della società tutto il giorno, direi dalle 9 del mattino alle 22 di sera che va a letto. Svegli alle 9, 9 e mezza della colazione, passeggiata, lezione tattica, allenamenti tutti i giorni della settimana, compreso la domenica. Domenica è il culme del nostro lavoro. Lunedì si allenano i ragazzi che non giocano la domenica, dal martedì in poi tutti siamo impegnati negli allenamenti. La formula funziona e i risultati gli danno ragione. La formula funziona e i risultati gli danno ragione. La formula funziona e i risultati gli danno ragione. È arrivato anche Rocco. Rocco, come ti va Rocco Mulo? Ti sta bene? Addio Venter! Ciao Rocco, ciao! Com'è il morale dei giocatori? Ma qua abbiamo fatto il tiro del campo per prendere i primi fissi. Suo il record di presenza sulla panchina del Milan. 459 presenze, di cui 323 come allenatore e 136 da direttore tecnico. Mi dica se sta in panchina oggi. Ma non lo so, vedrà, vedrà. All'entrata in campo delle squadre è Maldini da andare in panchina. Il posto di Rocco rimane vuoto. L'hai presa con l'arbitro per ora? Beh, ha avuto quella reazione che forse anche noi in tribuna abbiamo avuto, ma avendo vicino l'arbitro, l'arbitro l'ha sentito e giustamente è intervenuto. Lo stesso Rocco mi diceva, aveva ragione, ma sa, meno che ne potevo più. Per sfatare il luogo comune che da sempre associa Rocco al difensivismo e al catenaccio, basta dare un'occhiata alle formazioni schierate dal Parola. Sormani, Amrin, Prati, tre attaccanti e un trequartista come Rivera sono la regola fissa dello schema del tecnico triestino alla fine degli anni Sessanta. Chiaro, però, che è importante anche non prenderle. Anquiletti, Malatrasi, Rosato e Schnellinger compongono il muro eretto da Rocco, battezzato da Gianni Brera, la linea Maginot, come la fortezza militare innalzata dai francesi sul confine alpino dopo la Prima Guerra Mondiale. 23 aprile 1969 Semifinale di andata di Coppa Campioni A San Siro il Milan ospita i campioni in carica del Manchester United di Bobby Charlton e del pallone d'oro George Best. Al dodicesimo, una brutta entrata su Rivera pregiudica la partita del capitano che è costretto a lasciare il campo sostituito da fogli. I rossoneri, privi dell'uomo di maggior classe, fanno quadrato secondo le direttive che il paron urla dalla panchina. Alzano il ritmo di gara per sorprendere gli inglesi. Al trentatresimo, un gol di Sormani sblocca il risultato. Il Manchester non riesce a reagire. Le marcature imposte da Rocco, di lodetti e inquiletti su Charlton e Best si rivelano azzeccate. Nella ripresa è l'uccellino Hamrin a siglare il secondo gol sfruttando un'astuta finta di Pierino Prati. Nella ripresa è un'astuta finta di Pierino Prati. Finisce 2-0. Un risultato che, nonostante la sconfitta di misura subita all'Old Trafford nella partita di ritorno, fa volare il Milan in finale contro l'Ajax per conquistare la seconda Coppa Campioni della sua storia. Vediamo da sinistra a destra Prati, Cudicini, Schnellinger, Rivera, Rosato, Malatraldi. Sormani, Traversone, colpo di testa di Prati ed è gol. Rivera riceve, Sormani va a piazzarsi. Rivera, colpo di tacco per Prati, Prati, tiro. 2-0, rete di Prati. Il Milan, rinnovando il trionfo del 22 maggio 63, ottenuto a Wembe di Londra contro il Benfica, si aggiudica per la seconda volta alla Coppa dei Campioni nella sua quattordicesima edizione. Dopo aver sumberato Malmo e Celtic in Manchester, attraverso Aspetture Contese, ecco la decisiva quanto meritata vittoria contro l'olandese Ajax. Adesso si inscena il grande trionfo, agitare di grande bandiere sul campo. Alla guida del Milan c'è ancora una volta Nereo Rocco, come accadde nella vittoriosa finale di Wembley nel 63. Ghezzi, Davide, Trebbi, Benitez, Maldini, Trapattoni, Pivatelli, Sani, Altafini, Rivera, Mora. E l'undici, guidati in panchina da Nereo Rocco, che il 22 maggio 63, superando per 2-1 lo stadio londinese di Wembley, il Benfica di Eusebio, Colugna, Torres, consegnò al Milan e dall'Italia la prima Coppa dei Campioni. Ghezzi, Davide, Trebbi, Benfica di Eusebio, Il Cavaliero Nereo Rocco, che stava guardando, anzi guardandosi proprio, la sua Coppa. Sì, era l'ultima cosa che mi mancava nella mia carriera di giocatore e allenatore. Senta, lei ha raggiunto quindi il tetto, Cavaliero Rocco, lei ora è così, campione del mondo. Quali altri traguardi si prefigge? Coppe interplanetarie? No, di cancellare tutto e cominciare nuovamente. Grazie, grazie, grazie e anche a nome dei secondi e dei tifosi... Grazie. 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 Grazie.